Approvata in via definitiva la variante urbanistica per la realizzazione del progetto Nuovo Stadio della Fiorentina, che dovrebbe sorgere nel comparto sud dell'area Mercafir, e per la ricostruzione del mercato polivalente nell'area nord. La maggioranza si è dunque espressa positivamente sulla questione 20 i voti favorevoli e 6 quelli contrari di Lega, Movimento 5 Stelle e Sinistra Progetto Comune. E se da una parte un passo a livello burocratico almeno è stato fatto, adesso tocca ai soggetti terzi coinvolti su tutti la Fiorentina fare una mossa. Il bando comunale è pronto e sarà pubblicato nei prossimi giorni e a confermarlo è l'assessore all'urbanistica di Firenze Cecilia del Re. Tutto secondo i piani sembrerebbe o meglio secondo i cronoprogrammi in riferimento naturalmente al percorso di 10 punti indicato con la delibera d'indirizzo dal sindaco Nardella ed approvato in giunta nel mese di settembre. Ed in effetti a distanza di 4 mesi, oltre all'approvazione della variante, è arrivato il mandato per inserire il terreno in questione nel piano delle allenazioni. La procedura appena approvata ha inoltre distinto le sorti del centro alimentare polivalente da quello del nuovo impianto sportivo. Questo perché è forte l'intenzione da parte del Comune di portare avanti il nuovo progetto del mercato a prescindere da quella che sarà, oppure non sarà, la proposta della Fiorentina o in ogni caso di un soggetto privato. Insomma, come precedentemente detto, il destino della Mercafir dei terreni del comparto sud dipenderà dalla volontà di agire in tal senso da parte del presidente Viola Rocco Commisso e forse per questo è meglio fare attenzione perché spesso si sa, quando si crede di aver già le risposte giuste, è molto facile che cambino tutte le domande.